Te lo diamo, Trinità, nostro Dio, Te adoriamo, Padre dell'umanità, La Tua gloria proclamiamo, Te adoriamo, Trinità, Per l'immensa Tua bontà, Te lo diamo, Trinità, Per l'immensa Tua bontà, Tutto il mondo annuncia a Te, Tu lo hai fatto come un segno, Ogni uomo porta in sé Il sigillo del Tuo regno, Te lo diamo, Trinità, Per l'immensa Tua bontà, Te lo diamo, Trinità, Per l'immensa Tua bontà, Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, L'amore di Dio Padre, E la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi, E con il tuo Spirito, Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onipotente, E a voi, fratelli, Che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, E supplico la Beata Semprevergine Maria, I Angeli, i Santi e voi, fratelli, Di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, Perdoni i nostri peccati E ci conduca alla vita eterna. Amén. Signore, pietà, Signore, pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore, pietà, Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, E pace in terra agli uomini di buona volontà, Noi ti odiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, Signore Dio, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, Accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, Abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, Con lo Spirito Santo, Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, Crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di Spirito. Per il nostro Signore è Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia Dice il Signore del Suo eletto, di Ciro, Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a Lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei Re, per aprire davanti a Lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore, e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti, narrate la sua gloria. A tutti i popoli, dite le sue meraviglie. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Terribile, sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla. Il Signore, invece, ha fatto i cieli. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del Suo nome. Portate offerte ed entrate nei Suoi atri. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Prostratevi al Signore nel Suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Grande il Signore, è degno di ogni lode. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tassolanicesi. Paolo e Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tassolanicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazie e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre pereghiere e tenendo continuamente presente l'oporosità della vostra fede. La fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, infatti, amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo saldo la parola di vita. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da Lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose, Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro questa immagine e l'iscrizione di chi sono. Gli risposero di Cesare. Allora, disse loro, Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il tema centrale di questa domenica riguarda il rapporto tra il Regno di Dio e i Regni della Terra. Il brano di Isaia ci riporta al 538 avanti Cristo, quando l'imperatore persiano Ciro il Grande aveva da un anno conquistato Babilonia e tra i suoi primi provvedimenti vi era stato quello di ridare libertà agli ebrei che avrebbero così potuto far ritorno della loro patria. Dio si serve per i suoi fini di un re straniero che neppure lo conosce che contribuirà a rendere maggior gloria a Dio di Israele dimostrando come la sua potenza e anche il suo amore non siano legati né a confini geografici né a culture o razze particolari e neppure a determinate confessioni religiose. Dio agisce dunque anche al di fuori di Israele e potremmo giungere anche al di fuori della Chiesa. Così Ciro il Grande, pur senza saperlo, col suo senso di equità e di saggezza politica si inserisce e addirittura porta avanti il progetto salvifico di Dio riguardo al suo popolo. Ed eccoci alla pagina evangelica dove Matteo riporta una serie di dispute in cui i farisei, Sadducei ed Erodiani sottopongono a Gesù alcune delle questioni più scottanti del momento. A nessuno però interessa il suo parere. Si vuole solo trovare a tutti i costi un pretesto contro di lui per condannarlo. In questo contesto emerge soprattutto la doppiezza dei farisei che si mascherano dietro belle parole per nascondere il proprio pensiero e le loro vere intenzioni. Abbiamo ascoltato Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia ad alcuno. Parole adulatrici e false ma con le quali essi fanno l'elogio più grande a Gesù di cui riconoscono il fatto che non sia un opportunista o un calcolatore ma uno che più di piacere agli uomini intende piacere a Dio. Ma ecco la domanda perniciosa e subodola è lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai con gli invasori romani o con la tua gente? La trappola è ben concegnata ma Gesù non vicate anzi li chiama Ipocriti e chiede loro di vedere la moneta del tributo per far notare come l'immagine che vi era impressa fosse quella dell'imperatore romano. Ecco allora la sua risposta inattesa e sorprendente date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Se Gesù avesse risposto sì sarebbe stato condannato come traditore della patria se avesse risposto no sarebbe stato denunciato ai romani come sobillatore. la trappola avrebbe funzionato alla perfezione. Mettendo invece accanto a Cesare Dio Gesù distingue nettamente le due realtà e le due sfere di azione. Le realtà terrene hanno una loro autonomia una loro logica interna dove non c'è bisogno di coinvolgere Dio che crea dal nulla il cosmo e lo rende autonomo. Sta a noi scoprirne le regi che lo regolano il loro funzionamento e custodire con intelligenza quanto Dio ha creato di buono. Dio si fida di noi e ci rende capaci di e ci crede capaci di gestire al meglio la splendida vigna in cui ci ha messi a vivere trattandoci da adulti da persone che sanno affrontare le difficoltà della vita. Rendere a Cesare quello che è di Cesare significa prenderci cura del bene comune impegnandoci a costruire la città dell'uomo rispettando i governanti di turno e le regi dello Stato se non contrastano con la legge di Dio. Nessuna sottomissione ma collaborazione con tutti per trasformare il mondo e la comunità degli uomini dal di dentro. Come cristiani sappiamo di essere in cammino verso la Patria del Cielo ma senza dimenticare i nostri doveri di cittadinanza terrena guardiamo sia al cielo ma con i piedi ben piantati nella storia degli uomini. La speranza del paradiso per noi non è un ostacolo anzi è un incentivo ad impegnarci con maggiore energia nella costruzione della casa dell'uomo. Cosa significa invece rendere a Dio ciò che è di Dio? Se l'effigie impressa nella moneta ci fa comprendere che essa appartiene all'imperatore l'effigie di Dio è invece l'uomo perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Rendere a Dio ciò che è di Dio significa restituire a Dio le sue creature nella loro piena dignità. Il nostro impegno di cristiani non è quello di disertare la terra in nome del cielo ma quella di trasformare la terra in cielo. Attraverso la nostra crescita spirituale rispondiamo alla vocazione e al progetto di Dio su ciascuno di noi e così facendo contribuiamo alla trasformazione delle realtà terrene così come Dio le ha pensate. Contrario al Vangelo è l'atteggiamento di chi rifiuta il mondo rifugiandosi nel suo Dio ma contrario al Vangelo è anche l'atteggiamento di chi si compromette con il mondo di chi usa la politica e il potere anche religioso per ottenere privilegi di chi vagheggia una società teocratica per imporre la propria fede agli altri. Il regno di Dio è l'unico assoluto a cui gli uomini devono dedicarsi. Solo a Dio si devono l'adorazione e il culto e né lo Stato né alcun'altra realtà di questo mondo possono pretendere ciò che è dovuto esclusivamente a Dio. A Dio ciò che è di Dio. per questo motivo non si può tenere fuori Dio dalla costruzione della città terrena. L'uomo può realizzare la pretesa blasfema di costruire un mondo senza Dio ma questo mondo finirà per ritorcersi contro di Lui. carissimi fratelli e sorelle ci conceda il Signore per intercessione della Vergine del Rosario di vivere come buoni cittadini in cammino verso la patria del cielo operosi nella fede generosi nel servizio di carità e fermi nella speranza come i cristiani di Tessalonica di cui parla Paolo oppure come in tempi più recenti ha vissuto Bartolo Longo fondatore di questo santuario mariano e delle opere di carità che lo circondano il cui cammino di fede e di santità e di promozione umana è stato riconosciuto da San Giovanni Paolo II che a nome della Chiesa lo ha proclamato beato 40 anni fa il 26 ottobre del 1980 così sia credo in un solo Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesse dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà Amen O Padre che guidi la storia per realizzare i tuoi disegni rendici i tuoi servi fedeli perché possiamo compiere quella missione che tu hai affidato a ciascuno di noi animati da questa speranza rivolgiamo al Signore le nostre suppliche preghiamo preghiamo insieme e diciamo ascoltaci o Signore ascoltaci o Signore perché la Chiesa celebrando la giornata missionaria mondiale sia segno e strumento dell'edificazione del Regno e indica al mondo la via segnata da Dio per la salvezza e la piena liberazione dell'uomo preghiamo ascoltaci o Signore Signore perché i missionari che annunciano Gesù Cristo sino ai confini della terra siano docili strumenti nelle mani di Dio che tramite loro fa arrivare a tutti gli uomini il suo amore paterno preghiamo ascoltaci o Signore perché gli educatori aiutino i giovani a considerarsi membri attivi della società civile soggetti di diritti e di doveri parte di una nazione che ha bisogno anche del loro contributo per il bene comune preghiamo ascoltaci o Signore perché le nostre menti non siano offuscate da ideologie o scelte politiche contrarie ai valori del Vangelo preghiamo ascoltaci o Signore perché Cristo che si dona a noi in questa equaristia ci accompagni e ci sostenga nella vita e nelle scelte quotidiane preghiamo ascoltaci o Signore ascolta o Padre le nostre preghiere perché possiamo essere cittadini della terra e allo stesso tempo membri del Tuo Regno dacci la sapienza del cuore perché possiamo corrispondere alla Tua volontà per Cristo nostro Signore Amén 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 Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente Il Signore diceva dagli primari in questo sacrificio, allora gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, oh Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo figlio sia per noi principio di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente è cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'igno di benedizione e di lode, Dio onipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte, alla gloria di proclamarci, stirpe e letta, regale e sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista. Per annunciare al mondo la tua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio nell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osana, 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 osana nel orto dei cieli. Benedetto, con lui che vieni, benedetto colui che vieni. Benedetto colui che vieni nel nome del Signore, O sanna, o sanna, o sanna nell'orco dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Annunziamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale del Tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della Sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del Tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a Te gradito perché possiamo ottenere il Regno promesso insieme con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i Tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di Te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che Tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Riconciunce a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale Tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Equarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella tesa che si compie arrabbiata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu vorrei che vieni la tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai Tuoi Apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo Oh Signore non so degno di partecipare alla Tua mensa ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Sei tu Signore nel pane tu ci puoi sempre per noi risorgo vita nuova sei vivo in mezzo a noi Nell'ultima sua cena Gesù si non hai su prendete male vino la vita Signore Signore credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia poiché ora poiché ora non posso riceverti sacramentalmente vieni almeno spiritualmente nel mio cuore come già avvenuto io ti abbraccio e mi unisco tutto a te non permettere non permettere che abbia mai a separarmi da te Eterno Padre io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati in soffraggio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa Amen il corpo e Dio sarà con noi se porti la sua croce e lui lo regnerà se muori unito a Cristo con i miei fratelli ma che sai carità o l'ansia ma che sai carità ma che sai ma che sai carità o che sai carità in soffraggio delle anime di si si i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preghiamo. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Chinate il Capo per la benedizione. Dio, di ogni consolazione, disponga nella Sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della Sua grazia. Amén. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel Suo amore i vostri cuori. Amén. Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amén. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Da questa valle di tristezze e di doni che trasformasti in ponte di virtù di Dio Onnipotente, andate in pace. che vanti in ogni secolo paterni i tuoi trofei e dirgi tu le lucrime trite bracciate e che vanti in ansia pregano avvinci in cuore a te e che vanti in ansia pregano avvinci in cuore a te avvinci in cuore a te e che vanti in ansia pregano e che vanti in ansia pregano Grazie a tutti